Dopo alcuni giorni di brezza con temperature più umane, sono in arrivo nuove ondate di calore. Lo ha comunicato la Protezione Civile della Campania, che ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo. A partire dalle 8 di domani mattina, mercoledì 7 luglio e fino alle 20 di venerdì 9 luglio, si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7 e anche 8 gradi, soprattutto nella giornata di giovedì e un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero potrà superare anche il 60-70% in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa Regionale ha invitato i sindaci di tutti i comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prostare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Grazie a tutti.